ciao carissimi amici e amiche bentrovati per questo appuntamento in cui leggiamo insieme un capitolo della sacra scrittura stiamo leggendo l'antico testamento il libro della genesi e siamo arrivati al capitolo 33 e in questo modo ci aiutiamo ad andare avanti nella lettura dell'antico testamento che non è sempre una lettura facile però in questo modo no leggendolo insieme un capitolo alla volta ci aiutiamo a fare questo cammino di conoscenza e di fede preghiamo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen signore noi ti ringraziamo perché ci hai riuniti alla tua presenza per farci ascoltare la tua parola in essa tu ci riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la tua manda il tuo spirito santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori solo così il nostro incontro con la tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il figlio e lo spirito santo dio benedetto nei secoli dei secoli dei secoli amen il signore sia con voi lettura dal libro della genesi capitolo 33 giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare esaù che aveva con sé quattrocento uomini allora distribuì i bambini tra lia e rachele e le due schiave alla testa mise le schiave con i loro bambini più indietro lia con i suoi bambini e più indietro rachele e giuseppe e gli passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra mentre andava avvicinandosi al fratello ma esaù gli corse incontro lo abbracciò gli si gettò al collo lo baciò e piansero alzati gli occhi vide le donne e i bambini e domandò chi sono questi con te giacobbe rispose sono i bambini che dio si è compiaciuto di dare al tuo servo allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono si fecero avanti anche lia e i suoi bambini e si prostrarono e infine si fecero avanti giuseppe e rachele e si prostrarono domandò ancora che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato rispose è per trovare grazia agli occhi del mio signore esaù disse o bene in abbondanza fratello mio resti per te quello che è tuo ma giacobbe disse no ti prego se ho trovato grazia ai tuoi occhi accetta dalla mia mano il mio dono perché io sto alla tua presenza come davanti a dio e tu mi hai gradito accetta il dono augurale che ti è stato presentato perché dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto così egli insistette e quegli accettò esaù disse partiamo e mettiamoci in viaggio io camminerò davanti a te gli rispose il mio signore sai che i bambini sono delicati che devo avere cura delle gregi e degli armenti che allattano se si affaticassero anche un giorno solo tutte le bestie morirebbero il mio signore passi prima del suo servo mentre io mi sposterò con mio agio tenendo il passo di questo bestiame che mi precede e dei bambini finché arriverò presso il mio signore in seir disse allora esaù almeno possa lasciare con te una parte della gente che ho con me rispose ma perché basta solo che io trovi grazia agli occhi del mio signore così quel giorno stesso esaù ritornò per conto proprio in seir giacobbe invece partì per succot dove costruì una casa per sé e fece capanne per il grece per questo chiamò quel luogo succot giacobbe arrivò sano e salvo alla città di sicem che nella terra di canaan al ritorno da paddan arram e si accampò di fronte alla città acquistò dai figli di camor padre di sicem per cento pezzi d'argento quella porzione di campagna dove aveva piantato la tenda qui eresse un altare e lo chiamò il dio di israele parola del signore lode a te o cristo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amén il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre figlio e spirito santo amén bene grazie di questo momento di lettura di ascolto del capitolo trentatresimo della genesi anche questo a mio parere era un capitolo bello l'incontro di esaù finalmente rincontra il fratello giacobbe sembra che abbia smaltito la collera però ha dovuto ricevere un bel regalo ecco anche per accogliere il suo fratello e così comincia questa nuova avventura di giacobbe che è ritornato nella sua terra di origine buon proseguimento grazie ancora e allora e abbi cura di te ciao ciao